Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany, oggi torno a consigliarvi qualche libro nel caso vi sia piaciuto un altro libro. Dopo la puntata su Twilight, dopo la puntata su Principe Crudele e la Corte di Rose Spine oggi parliamo di Hunger Games, in quanto da poco, da pochissimo proprio, è uscito la ballata dell'usignolo e del serpente o del serpente dell'usignolo, fate finta che io sappia come si chiama il nuovo libro e quindi mi sembrava anche un po' doveroso fare questa puntata che fondamentalmente io li li pronta da un sacco di tempo in questo preciso momento. Come sempre io ho isolato degli elementi che per me possono essere rilevanti in Hunger Games e che quindi possono dare la spinta per trovare titoli simili, titoli che hanno qualcosa in comune o titoli che magari hanno poco in comune con quello che c'è dentro Hunger Games ma diverse tematiche che invece possono stimolarvi se vi è piaciuto Hunger Games tra l'altro qui parliamo quasi esclusivamente di distopia che per chi mi segue da abbastanza tempo sa che è proprio una delle mie cose preferite in generale in letteratura e quindi insomma non vedevo l'ora davvero di fare questa puntata come sempre prima di iniziare premesse doverose se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che esce un mio video giù nell'infobox invece trovate tutti i miei link di affiliazione tra cui ad Amazon acquistando tramite i miei link mi date una mano a portare avanti il canale e anche tutti i miei link ai social specialmente Instagram mi raccomando se volete seguirmi anche fuori da YouTube dove su Instagram ad esempio sono molto attiva bando alle ciance è arrivato il momento finalmente di darvi dei consigli oggi diciamo quelli che sono gli elementi che io ho isolato di Hunger Games sono fondamentalmente tre ovviamente il primo il più grande il più diciamo termine a cappello è sicuramente la distopia la distopia contraddistinguerà tutte le storie che vi sto per suggerire poi ci sono altri due elementi che secondo me possono essere rilevanti diciamo che Hunger Games potrebbe essere circoscritto in quella categoria Last Human Standing in a Killing Game ovvero l'ultimo uomo, l'ultimo umano che sopravvive in un gioco dove ci si uccide e l'altro elemento importante e rilevante è sempre quello di una società corrotta che sfrutta le persone e che poi si rivela essere molto più meschina molto più maligna e negativa di quanto ci si possa aspettare questi tre elementi teneteli sempre presenti perché saranno quelli che ci guideranno nei consigli di oggi avevo anche questa mezza idea di includere delle protagoniste di un certo tipo ma ci andavamo a impantanare in un'area troppo complessa quindi magari quello ce lo teniamo per un'altra volta parto con il primo suggerimento che non stupirà assolutamente nessuno ovvero Battle Royale di Kooshun Takami che questo davvero non stupisce nessuno perché in teoria Battle Royale è ciò a cui si è ispirata la Collins per scrivere Hunger Games penso sia sempre abbastanza doveroso citarlo in quanto diciamo Hunger Games è proprio un'opera derivativa da Battle Royale e non solo però insomma questo è proprio l'elemento è proprio il libro da cui ha tratto maggior ispirazione quantomeno per il concetto Battle Royale è proprio una perfetta sintesi tra quello che è il Signore delle Mosche che è forse uno dei distopici più famosi e più belli a mio parere mai creati e allo stesso tempo proprio Hunger Games è un perfetto connubio tra vecchio e nuovo tra classico e moderno e soprattutto diciamo che Battle Royale riesce con grande capacità a trasmettere al lettore gli aspetti proprio più crudeli più sanguinari in quello che alla fine è un gioco di potere dove le persone insomma quelli che partecipano al gioco non sono considerati altro che carne da macello in Battle Royale in Soldoni seguiamo una classe delle medie che viene completamente trasportata su un'isola praticamente deserta nell'ambito di questo programma autoritario davvero spietato vengono fornite loro armi e vengono obbligati a uccidersi a vicenda finché non ne rimarrà solo uno di loro chi sopravvive fondamentalmente vincerà remetto anche subito che allora Battle Royale non è un libro scritto proprio benissimo ma rimane secondo me molto forte nelle sue immagini molto efficace nella resa di quelli che sono gli aspetti fondanti di questa narrazione e del senso stesso che in fondo ha la narrazione e riesce anche in qualche modo a restituire una psicologia abbastanza complessa di tutti i partecipanti alla Battle Royale fa veramente il giro su tutti loro e diciamo sono tutti un po' protagonisti in una maniera molto intensa tratteggiata psicologicamente davvero meglio che in tanti altri aspetti invece della scrittura questo è forse il punto più forte di Battle Royale perché davvero vi suggerisco anche il film che secondo me a livello di crudezza è molto forte ma non forte come il libro e questo vuol dire tanto fidatevi se lo avete visto o se lo vedrete ve ne renderete conto e devo dire che chiaramente questo libro non poteva non stare qua dentro è disponibile sia in italiano che in inglese ah mi sono dimenticato ovviamente la solita premessa non tutti i libri di cui parlerò sono in italiano ma ve lo suggerisco subito e infatti il secondo consiglio che vi do non c'è in italiano c'è solo tradotto in inglese e ovviamente in lingua originale c'è in giapponese infatti il secondo consiglio che vi do è The Crimson Labyrinth di Yuzuke Kishi il protagonista principale di questa storia è Fujiki un disoccupato esperto di matematica che un giorno si risveglia in quella che è fondamentalmente un'ambientazione desertica uno strano paesaggio dove lui si ritrova in preda fondamentalmente ad amnesia il suo unico indizio che si ritrova tra le mani è questa console di gioco portatile che lo informa che ora sta partecipando a un gioco chiamato The Mars Labyrinth e il suo compito numero uno è quello di dirigersi verso il primo checkpoint mentre tenta un attimo di ricordare come mai è finito lì dentro cosa stia succedendo e recuperare un po' la memoria incontra una donna di nome I che disegna fumetti erotici per sopravvivere e anche lei si è ritrovata nella stessa identica situazione poiché la sua console è rotta decidono di partecipare insieme al gioco di collaborare e quindi di iniziare a raggiungere insieme il primo checkpoint dove scopriranno che non sono soli ma ci sono altri sette partecipanti e a quanto pare non esiste assolutamente un tasto di reset non c'è modo di uscire dal gioco non c'è nessun salvataggio nessuna continuazione se fai la mossa sbagliata praticamente tutti i partecipanti muoiono davvero allora è un libro che è molto simile ovviamente al concetto che può avere anche Battle Royale questa sfida nel quale i nostri protagonisti vengono immersi e che è davvero una sfida all'ultimo sangue e chi vince fondamentalmente sopravvive ma molto più interessante rispetto sia Hunger Games che magari Battle Royale in questo caso c'è una riflessione molto più profonda che in Hunger Games in parte è presente ma molto marginalmente se non per degli sprazzi di Katniss insomma la trama di questo libro invece di The Crimson Labyrinth si dirige molto in fretta verso una riflessione su che cos'è la collaborazione sul senso di collaborazione, sull'altruismo contrapposto ovviamente a quelle che sono scelte più egoistiche da parte dei singoli o comunque che vengono spinte proprio dal senso di sopravvivenza dall'istinto di sopravvivenza e anche una riflessione brutale come tanto vedremo in altre opere che è un po' il filo conduttore di tutta questa puntata su quanto controllo abbiamo realmente delle nostre vite all'interno della società e quanto invece siamo vittime noi stessi del potere e anche del suo compiacimento cioè quanto alla fine per sopravvivere siamo disposti a mettere in discussione dei nostri valori quanto siamo anche disposti ad consentire a fare molto molto interessante anche questa opera che vi consiglio assolutamente poi arriviamo a un grandissimo classico ovvero l'uomo in fuga di Stephen King che non è pubblicato come Stephen King ma sotto lo pseudonimo di Richard Bachman in questo mondo distopico, non così distopico fondamentalmente la società vive divisa tra ricchezza estrema e povertà estrema disoccupazione, inquinamento atmosferico ormai irreparabile senza ritorno cioè non è che sia così distopica questa società malattie croniche e un degrado che permea sempre di più la società sotto numerosissimi aspetti le menti dei tutti i cittadini sono dominati da quella che è la trivù ovvero la tv tridimensionale dove vengono continuamente trasmessi 24 ore su 24 programmi che sono giochi o show che tentano di stimolare soprattutto sensazioni di odio sensazioni molto forti di aggressività e anche però ilarità verso gli spettatori il protagonista del romanzo che è Ben Richards a 28 anni vive con la moglie Sheila e la piccola figlioletta Katie in un soborgo abbastanza degradato dove è molto difficile vivere proprio perché è molto violento Ben è un uomo che ha disperato bisogno di soldi proprio perché Katie la piccola figlioletta è una malata cronica e sta molto male e lui sta cercando a tutti i costi di trovare dei soldi per poterla aiutare cercando di evitare che sua moglie sia così disperata dal doversi prostituire per pochissimi spiccioli ma l'unico modo che ha un uomo come lui per poter effettivamente trovare il denaro che gli serve è partecipare ai giochi una volta che ti offri volontario per i giochi vieni esaminato, scrutinato, ti vengono poste una serie infinita di domande e dopo tutta una serie di analisi viene deciso per quale gioco tu sei adatto ci sono tantissimi game show presenti nel palinsesto televisivo e guarda caso Ben sembra proprio il concorrente perfetto per uno dei game show più violenti di tutto questo mondo è vero anche però che proprio questo show è uno dei più remunerativi quindi fa molto gola Ben e il nome di questo gioco è proprio L'Uomo in Fuga riuscirà bene a vincere o finirà ammazzato come tutti quelli che ci hanno provato prima di lui? allora L'Uomo in Fuga è davvero uno dei libri che forse di più è votato all'attenzione noi siamo disperati tanto quanto lo è Ben durante la lettura è pieno di spunti sull'intelligenza umana sulle grandi risorse che riusciamo a trovare dentro di noi e forse anche sulla capacità di razionalizzare in qualche modo proprio data dalla disperazione anche nei momenti più brutali e questa tensione che noi percepiamo perennemente durante il libro aumenta sempre di più man mano che ci avviciniamo al finale che corrisponde ovviamente alla fine del gioco un gioco dove tutti ovviamente sono contro un uomo solo al contrario degli esempi precedenti dove tutti sono contro tutti ma Ben è talmente disperato e ha bisogno a tutti i costi di salvare la propria famiglia che impiegherà davvero ogni risorsa di cui è capace L'Uomo in Fuga è davvero un libro molto brutale nella rappresentazione della disperazione quanto siamo disposti a mettere in gioco, a mettere in campo spinti proprio dalla mancanza di altre opportunità o di altri mezzi tutte cose che fondamentalmente non riusciamo mai a trovare dentro noi stessi ma è proprio la società che non ci fornisce alcuni strumenti per poter prosperare è un libro magnifico quindi non poteva davvero non essere in questo elenco poi passiamo al prossimo consiglio che è la trilogia di Chaos in questo caso Chaos, la fuga di Patrick Ness immaginatevi un mondo dove tutti possono sentire i tuoi pensieri e tu puoi sentire loro sul pianeta del nuovo mondo tutti i coloni agricoli fondamentalmente parlano tra loro senza dirsi mai nulla fondamentalmente proprio perché tutti sentono i pensieri degli altri anche se non lo vogliono e soprattutto proprio perché rende quasi impossibile avere dei segreti Todd, il nostro protagonista, è un ragazzo in una città fatta solo di adulti è l'unico ragazzo e sta per subire un misterioso, diciamo, rito di iniziazione crede che tutte le ragazze di questo pianeta siano estinte, non esistano finché non incontra una ragazza in un bosco e lì tutto cambia bruscamente perché Todd apre un po' gli occhi infatti Todd, il suo cagnolino e Viola, cioè la ragazza che ha incontrato nel bosco scappano, inseguiti da questo triste esercito di cittadini fondamentalmente Todd e Viola scoprono che in questo mondo c'è molto di più di quello che loro conoscevano e soprattutto molto di più rispetto a quello che si sarebbero mai aspettati Chaos, cioè la fuga è effettivamente una narrazione che ha degli elementi thriller e anche fantascientifici, è pieno di azione c'è un mostruoso cattivo che non morirà mai e tantissimi momenti di angoscia ma anche di grande trionfo Todd deve proprio affrontare l'apprendimento di una verità sul suo mondo una sorprendente verità potremmo definirla che chiaramente è sorprendente per lui mentre però sta affrontando anche una serie di dilemmi morali mentre scappa infatti si trova davanti a situazioni impensabili riuscirà ad uccidere, avrà il coraggio di farlo quando arriverà il momento per salvarsi la vita e per difendersi fin dove si spingerà per sopravvivere ecco emotivamente intenso e spesso violento la fuga è esattamente una dimensione un po' più ridotta rispetto magari a Hunger Games ma allo stesso tempo ti mette di fronte a tematiche molto simili e per questo ovviamente non poteva non essere in questo elenco il prossimo suggerimento che vi do si chiama I brutti di Scott Westerfield che magari alcuni di voi riconosceranno come l'autore della trilogia del Leviatano detto ciò, di cosa parla I brutti? che ha un titolo orribile ma anche in inglese è The Osways ragiona su un aspetto molto semplice chi decide fondamentalmente se tu sei brutto o sei bello? la risposta è molto semplice la società attraverso una serie di modelli, di pubblicità, film, insomma di media innesta quest'idea molto particolare e precisa di ciò che può essere considerato bellezza e quindi il nostro concetto di bellezza come società è molto circoscritto e così Scott Westerfield ha preso questo spunto per poi portarlo all'esasperazione dentro il mondo di The Gugglies cioè I brutti infatti propone proprio un'idea molto particolare di società che basa tutto sulla perfezione e sull'ideale di bellezza ad ogni ragazza infatti in questo mondo viene dato il corpo e l'aspetto di una supermodella cosa mai potrebbe esserci di sbagliato in tutto questo anzi è il sogno di moltissime persone Tully sta per compiere 16 anni e non vede l'ora di diventare carina nel mondo di Tully infatti il tuo sedicesimo compleanno significa affrontare un'operazione che ti trasforma da persona magari repellente, non proprio bellina, un po' bruttina eccetera eccetera in una persona magnifica, bellissima straordinariamente attraente e ti catapulti in questo paradiso high touch dove l'unica cosa che devi fare e della quale devi preoccuparti è divertirti tra poche settimane finalmente toccherà Tully ma conoscendo una ragazza che sta per tra poche settimane finalmente sarà il turno di Tully ma nel frattempo Tully incontra una nuova amica Shy che non è per nulla sicura di voler diventare carina di voler essere carina, preferirebbe fare qualcosa di diverso che però in questo mondo non è possibile e infatti a un certo punto Shy scappa e quando avviene la sua fuga Tully si trova di fronte a degli aspetti del suo mondo e scopre degli aspetti del suo mondo e della società molto inquietanti e che non aveva mai recepito le autorità offrono a Tully la scelta peggiore che poteva immaginarsi ovvero trovare la sua amica e consegnarla oppure non diventare mai la bellezza che aveva sempre sognato di essere Tully si trova ovviamente costretta a una scelta che non aveva previsto e qui ovviamente seguiremo tutta la storia Ugly's è davvero una brillante critica molto alla nostra società e a quello su cui ci siamo soffermati ossessivamente con azione, simbolismo, romanticismo, amicizia insomma soprattutto un importante sviluppo del personaggio principale che è Tully cioè Tully fino a un certo punto è forse una delle protagoniste più insopportabili di tutto il panorama young adult e comunque di libri per ragazzi ma con un senso molto preciso e soprattutto quello a cui assistiamo è una sua crescita, una sua evoluzione che ha un po' il senso che dovrebbero avere tantissime storie per ragazzi e soprattutto storie distopiche dove ti trovi di fronte a diciamo un velo che ti viene sollevato davanti agli occhi e inizi a osservare la società per quello che è realmente insomma il suo sviluppo corrisponde anche molto a quello che sperimenta il lettore una crescita anche da parte nostra e che cogliamo anche in lei davvero molto molto interessante anche questo ve lo suggerisco soprattutto per l'animo distopico per le fughe per il fatto di essere di fronte a scelte complesse che riprendono tantissimi temi di Hunger Games il prossimo consiglio che vi do c'è anche in italiano ho scoperto di diverso tempo fa e si chiama Genesis di Bernard Beckett Anax che è la nostra protagonista pensava di conoscere tutto di storia infatti ha studiato tantissimo proprio perché il suo esame estenuante è appena iniziato e se passa realizzerà il suo sogno di venire ammessa all'Accademia istituzione elitaria che governa questa società utopica ma Anax sta per scoprire che tutta la storia che le è stata insegnata durante il suo apprendimento e quello che scopriremo noi come lettori insieme a lei non è tutta la storia non è l'intera storia che dovevano insegnarle e l'Accademia stessa non è ciò che lei ha sempre creduto fosse in questo romanzo che davvero ha una genialità molto brillante molto creativo e molto unico nel suo genere l'esame di Anax ci conduce proprio in un futuro in cui ci troviamo davanti a questioni e numerose questioni irrisolte proprio tramite la scienza la filosofia e la storia stessa tantissime domande davvero secolari in questo caso sono domande che hanno davvero acquisito una nuova urgenza davanti allo sviluppo tecnologico e che Anax non può più ignorare il romanzo fondamentalmente ha questa forma anche strana perché consiste nel seguire le quattro ore di esame che Anax dovrà affrontare ha dovuto scegliere un argomento specialistico e l'intera storia si sviluppa attraverso il dialogo proprio durante l'esame attraverso degli espedienti che però portano continuamente ad espandere la visione che abbiamo del mondo uno dei temi fondamentali che sono stati esplorati all'interno di questo brevissimo romanzo perché è davvero molto molto breve sono la paura e l'effetto che può ottenere sulla tenuta di una società stessa e soprattutto l'altro grande tema è la distinzione tra umano, umanità che cos'è l'essere umano e la tecnologia come i loro ruoli in qualche modo si integrano ma quando uno prevale sull'altro e in che modo ci si redefinisce come umanità ciò che ci rende umani e ciò che invece non lo è davvero credo che sia forse uno dei romanzi più brillanti in cui un po' anche per la forma per la brevità di tutta la narrazione per il modo in cui è impostato ovviamente tutto il romanzo credo sia davvero una critica molto brillante molto puntuale e forse tra tutti questi libri quella che prende moltissimi spunti proprio dalla filosofia e dalla discussione filosofica credo sia davvero estremamente stimolante quindi anche questo ve lo suggerisco arriviamo all'ultimo romanzo che vi suggerisco ad oggi che è uno dei miei preferiti e penso davvero che sia uno dei migliori fantascientifici e non solo ovviamente perché si tratta anche di ambienti estremamente distopici scritto per ragazzi ovvero il gioco di Ender di Orson Scott Card molto conosciuto come Ender's Game per il film che non è fatto male anzi è uno forse dei film che mi dispiace che non abbia avuto più successo allora Andrew detto Ender Wiggin è il nostro protagonista ha sei anni ed è un bambino intelligentissimo nato come terzo figlio dei suoi genitori in un mondo distopico dove per legge è vietato avere più di due bambini per famiglia la vita di Ender quindi è in bilico ma viene confermata da uno specialissimo permesso governativo Ender è stato osservato attentamente per anni tramite uno speciale dispositivo di monitoraggio che gli era stato installato nella testa e infatti il libro inizia con la sua rimozione non sa assolutamente ancora che la sua vita è il risultato di una sperimentazione genetica volta a creare il laboratorio quello che potrebbe essere il leader perfetto che conduca finalmente la Terra alla vittoria nel conflitto interplanetario contro una razza aliena che la Terra non riesce a vincere e l'unico modo per scoprire se l'esperimento è andato effettivamente a buon fine è quello di arruolare Ender per un allenamento sempre più duro e mentre Ender fondamentalmente si allena e pensa anche alle volte di giocare a un vero e proprio videogioco insomma a questi giochi di guerra simulati al computer dove lui può dare il massimo della propria tattica e la propria strategia senza saperlo è impiegato in qualcosa di molto più disperato e decisamente più importante allora è questa è una storia emotivamente molto complessa e talvolta doloresamente familiare quando si tratta di indagare sui bambini che sentono dentro di sé il conflitto insomma quelli che lottano per accettare i propri demoni interiori affronta numerosissime tematiche dal controllo del governo sul privato del confronto con il diverso della guerra in questo caso stellare dei mezzi di diffusione di massa della politica la psicologia i traumi insomma è un libro per ragazzi che cerca questo bilanciamento tra azione e divertimento insomma la parte un po' più di intrattenimento a che non cerca di essere forzatamente leggero e non banalizza assolutamente moltissimi dei concetti che vuole invece esprimere insieme a Ender ci troviamo anche di fronte a una questione molto profonda e davvero complessa da decifrare insieme a Ender veniamo catapultati di fronte anche ad alcuni dilemmi davvero moralmente dilanianti in pratica la verità che ci viene rivelata è che anche un killer può essere compreso può essere capito e comprendere in qualche modo significa anche amare in fondo il libro parla della guerra e di cosa si arriva a fare per la guerra anche in maniera inconsapevole soprattutto quando è inconsapevole in questo libro poi c'è una bella rappresentazione un po' dell'infanzia secondo me è il fatto che i bambini e i ragazzi non sono sempre tutti buoni né tutti crudeli c'è una mescolanza anche di diversi anime e diversi aspetti c'è chi è gentile c'è chi è spietato e sempre di più diciamo che viene rappresentata l'infanzia e anche l'adolescenza in una maniera molto complessa e molto efficace non è sicuramente il libro adatto a chiunque immagina l'infanzia solo come un momento di pura innocenza dove tutto è bellissimo e non succede niente di malvagio anzi è tutt'altro i personaggi che affrontiamo sicuramente conservano un certo tipo e un certo grado di innocenza ma ci mostrano anche tanto altro io credo davvero che Ender's Game cioè il gioco di Ender sia davvero un libro magnifico e spero davvero che questo lo leggiate assolutamente ci troviamo in un ambiente più fantascientifico chiaramente rispetto ad Hunger Games con molti elementi più tangibili ma tanti dei dilemmi di Katni secondo me in alcuni punti sfociano anche nei dilemmi di Ender e questo secondo me è anche uno dei punti che più ci affascinano fondamentalmente della storia di Katniss quindi insomma questo è consigliatissimo se non obbligatorio come sempre io vado di minacce detto ciò io spero che i consigli di oggi siano risultati interessanti sulla distopia veramente ho talmente tanti consigli che in realtà mancano tipo sette titoli a questo video ma mi sembrava too much cioè davvero troppo poi in alcuni andavamo veramente abbastanza lontani rispetto a quello che è lo scopo di questo video cioè suggerirvi cose simili ad Hunger Games o che vi potrebbero piacere se avete apprezzato Hunger Games quindi magari parliamo di distopia di nuovo anche un po' più avanti qualche consiglio che magari con Hunger Games non c'entra niente ma già vi avevo suggerito cinque libri brevi sulla distopia magari ve ne suggerirò altri più avanti vediamo diciamo che oggi siamo arrivati alla fine fatemi sapere se qualcuno dei suggerimenti che vi ho dato oggi l'avete letto se l'avete apprezzato se non l'avete apprezzato eccetera eccetera e poi per il resto direi che insomma fatemi sapere anche se avete già letto il prequel di Hunger Games cosa ne pensate senza spoiler mi raccomando perché a me deve ancora arrivare la mia copia quindi sto aspettando di leggerlo sono molto curiosa io al contrario di tante persone ho un ricordo abbastanza lucido di Hunger Games contando che l'ho letto tardissimo e quindi insomma sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate anche dei suggerimenti di oggi se vi siete appuntato qualcosina ci sentiamo giù nei commenti direi che per oggi è tutto per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao ciao